Giornata di Porta Aperte oggi a Palazzo Widman, in Consiglio Provinciale nel Palazzo Provinciale 2 a Bolzano per festeggiare il 69esimo anniversario dell'Accordo dei Gasperi Gruber, fondamento giuridico dell'autonomia altoatesina, siglato il 5 settembre 1946. Un'occasione per compiere visite guidate e conoscere il dietro le quinte della macchina politica amministrativa. Cuore pulsante dell'iniziativa, piazza Silvius Magnago, dove sono stati installati sei grandi gazebo e una casetta di legno allestita dall'azienda provinciale Foreste De Magno. Tema centrale di questa edizione è la famiglia, con gli uffici provinciali e l'Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Sociale ed Economico chiamati a presentare tutti i loro servizi. Una giornata di Porta Aperte per mantenere viva la memoria e per coinvolgere la cittadinanza. Nel tardo pomeriggio si è tenuta invece la parte ufficiale della giornata di Porta Aperte, proprio in piazza Silvius Magnago. E con questo vogliamo dimostrare il lavoro che si svolge, che si conclude poi nelle assemblee plenarie, nei lavori del Consiglio. Ma è fatto quotidianamente di incontri, di elaborazione dei testi, delle leggi, delle discussioni e che si trasformano poi nella vita quotidiana, nelle regole che governano la vita quotidiana della nostra terra. Ed è importante che le persone vengano, partecipino e costruiscano e ci aiutino a costruire le regole della convivenza della nostra terra e il futuro assieme ai nostri giorni.